Buongiorno, siamo al numero 2 del VIN Italy, il giorno 2 e come sempre parliamo dell'AS, del Muscat. Il VIN è socialità, allegria e simpatia, da sempre, da 8 mila anni e di conseguenza cerchiamo di dare oggi qualche altra informazione di carattere simpatica tecnica. Io adesso apro una bottiglia, la apro con un certo stile. Si apre l'occhiello, si libera il capsulone e si toglie il tappo, una leggera rotazione, il tappo viene via, si è scollato dal vetro, ma il botto assolutamente, quel leggero, come si dice, perfetto. Il solito trucco, se il tappo sa di vino, il vino sa di tappo, il tappo sa di vino e il vino sa di vino, è un trucco conosciuto. Verso il vino nella classica, la classica degustazione, alla vista, al profumo. dolce stupendo. E qui ho bevuto il vino di questa bottiglia. Adesso io voglio bere il vino di questa bottiglia. E lo verso. Non cade. Come non cade. Ascettate, torniamo il tappo. stop. Questa è la prima parte.